salve a tutti ragazzi io sono squall e rieccoci su opera omnia versione global oggi andremo ad affrontare il nuovo stage cosmos ma prima volevo ricordarvi che oggi pomeriggio alle ore 15 uscirà un nuovo episodio di final fantasy 8 remastered quindi mi raccomando ragazzi attivate la campanellina così da non perdervelo allora iniziamo con di scegliere un support quasi mi porterei uno squall sì vediamo tu quanto attacco c'hai 2003 pochissimo non è neanche le mastery se ne qualcuno un pochettino più forte 2008 va benissimo ok portiamoci lui dietro così riusciamo a fare un bel po di danno e detto ciò ragazzi adesso io mi muto metto una musichetta di sottofondo e si parte ciao ciao Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.